Ciao a tutti, sono Enrico Maria Corna di Sportar24, siamo qui all'Alpe di Pampeago in Val di Fiemme per gli SchiTest 2017 con Massimo Ramella, che è il promoter di tutto il gruppo Rossignol, Rossignol Dynastar e Lange, che è una delle aziende più famose per gli scarponi. Non solo scarponi di Coppa del Mondo, come vediamo sempre in televisione, ma in questo caso anche scarponi da freeride. Parlaci dell'XT 130 Fritur. L'XT 130 Fritur intanto è una scarpa di riferimento, è la scarpa da fritur più leggera sul mercato. Fa 1,7 kg nella misura centrale di 26,5 kg. È una scarpa che nasce con l'intento di dare la massima performance in discesa, ma può essere utilizzata e viene anche utilizzata per fare della risalita. Quindi utilizzando l'attacco con il pin o anche l'attacco tradizionale non c'è nessun problema. Rimane una scarpa da freeride, non da scialpinismo, bisogna essere chiari per questo, quindi da fritur, ma ha la possibilità di essere utilizzata anche nella risalita. Oltre al pin, oltre a essere la più leggera sul mercato, ha tutti gli accorgimenti necessari per fare della risalita o della camminata. Ossia la suola rocker, la suola VTR rocker, che facilita la rullata, quindi la camminata. La scarpetta naturalmente è adeguata alla scarpa leggera, quindi una scarpetta leggera in ultralon. E lo sblocco posteriore per quel che riguarda il gambaletto per fare la risalita. Un 43 gradi completo in avanti e dietro, quindi l'escursione del gambaletto sono 43 gradi. Tutti questi accorgimenti qua, ripeto, vanno in funzione di una scarpa che risale, ma in particolare questa scarpa qua vuole dare la massima performance in discesa. Come è arrivata Langhe a ridurre così tanto il peso? Ha lavorato sui materiali o sugli spessori? Si è lavorato assolutamente sui materiali, anche perché noi rispettiamo quello che è il nostro standard di scafo, che è uno scafo vincente nella storia di Langhe, ha sempre dato il massimo risultato. Abbiamo lavorato sui materiali, sicuramente sui materiali, è chiaro che poi gli spessori delle plastiche vengono adeguati a quello che è il materiale. Grazie. 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 Grazie.